Video acquisti Lucca 2023. Se non mi conoscete, io sono Francesco Tognolo, sono un professore universitario e mi occupo di videogiochi. E di solito, se lo sapete, non faccio video di questo genere, però una volta all'anno ne vale anche la pena. Sono tornato dal Lucca Comics e anche il mio compleanno, ho preso un po' di robaccia, quindi ho detto facciamo un po' così i video panoramica degli acquisti. Quindi partendo da questi occhiali che avete visto, che sono insomma molto classici visti e rivisti, però non li avevo e ho detto dai prendiamo anche questa patacca. Allora, prima cosa innanzitutto, ho finalmente le copie personali del mio ultimo libro che è uscito. Eccolo qui, la Guida ai videogiochi pubblicata con Udoia. Sono anche fermato ogni tanto lì al loro stand a vendere e firmare copie, quindi può essere anche che qualcuno mi abbia anche visto lì, chi lo sa, insomma qualche persona in giro mi ha fermato. Quindi abbiamo appunto, per prima cosa, questo, sono contento ecco di averle finalmente a disposizione, perché quando anche ho fatto il video di recente, subito prima di partire per Lucca, ho detto che sarebbe stato bello anche mostrarvi la copia fisica, ma non ce l'avevo ancora. Quindi ora abbiamo rimediato. E sempre da Udoia, ho anche questo, che è la Guida all'immaginario nerd, che è uscita qualche anno fa, adesso non ricordo qua, 2019, non ce l'avevo, ho detto recuperiamo un po' questa cosa. Dato ecco, prende un po' in ordine sparso le cose, quindi non c'è un particolare criterio, ma giusto, man mano come viene vedete un po' quello che c'è. Poi abbiamo il cofanetto di Billy Butt, così ottima occasione per recuperare questo manga. Sempre in ambito manga, primo volume dei Cinque Samurai. Poi abbiamo di Mazze Sensolini in mano sinistra, necro briscola, forse non si vede un po' che è sbarluccicoso, comunque è un gioco di ruolo e di carte ispirato alla briscola, fatto da quelli di Vilupera. Se non lo conoscete vi consiglio di andare assolutamente a guardarlo, fanno cose molto interessanti, si sono saputi ritagliare una nicchia di lettori, di appassionati molto affezionata, ci sono tanti bei video in cui raccontano questa cosa, ne hanno fatto anche uno, forse anche più di uno, con il Duca di Baionette. Quindi, insomma, approfondite e valeva la pena recuperare questa loro ultima produzione. Poi abbiamo un paio di calzini di Tetris che male non fanno. Poi abbiamo 49 chiavi che non ho ancora guardato bene, me l'hanno spiegato un po' velocemente gli Elo Stand. Comunque dovrebbe essere un ibrido tra un libro game, un escape room e un po' di altre cose. Quindi magari può essere interessante come esempio da citare in certe lezioni o cose del genere. Quindi nel caso ho detto, boh, prendiamo e vediamo un po' com'è di che si tratta. Poi, allora, La crostata di Solletico e Cannella, che è un libro scritto in corsivo, cosa che fa ridere perché dopo che c'è stata la prof del corsivo, uno pensa che lo apre e ci sia, ah mio, e cose così. Invece no, è proprio nel senso che è scritto in corsivo per abituare bambini e bambini alla lettura del corsivo. È un libro per bambini, appunto. Poi abbiamo... non chiedetemi perché l'abbia comprato o perché non me lo ricordo. Forse è proprio così un po' per il meme. Poi abbiamo nove racconti di Andrea Viscusi. Questo l'ho comprato, conosco Viscusi. Era un po' lì in giro, c'era sconto. Ho detto, ma sì, dai, compriamolo, e mi hanno dato, praticamente gratis pagando poco di più, anche questo, quest'altro libro, sempre allo stesso stand. Poi ho preso la variant, quella di Asadora. Questo in realtà non ho neanche tuttora capito se sia poi per un mio amico, glielo lascio, se lo tengo io. Non è la variant quella della Panini, perché c'era troppa gente per entrare la Panini, però ho visto da un'altra parte, ho detto, vabbè, intanto compriamola nel dubbio. Poi, come creare un graphic novel. Questo, piuttosto grosso, tra l'altro, come formato, è appunto una guida a fumetti su come fare una graphic novel. Devo dire che l'ho sfogliato una di queste sere, mi aspettavo qualcosa in più, è abbastanza generico. Poi magari lo leggo con più calma, magari saltano fuori dei contenuti più interessanti, ma non mi ha stupito. L'ho comprato effettivamente un po' a scatola chiusa. Sempre, sapete, sono quelle cose che può essere interessante prendere anche come spunto a lezione, come dicevo prima, visto anche che quest'anno riprenderò un corso di semiotica che avevo fatto, c'è una parte di semiotica del fumetto. Quindi non mi dispiace, ecco, prendere degli spunti anche da questo punto di vista, però per quello che ho visto finora non mi ha colpito. Invece, molto interessante, cosa che dovevo recuperare da un po' di tempo, Game Design and Production, un manuale fatto da IPID, che è l'associazione di Ivan Venturi, insieme ad altre persone. Venturi è uno storico sviluppatore italiano di videogiochi, è anche una delle persone con cui abbiamo organizzato il Future Video Games 2023, lui fa tante attività, e questo avevo già avuto modo di sfogliarlo, a svilupparti in altre occasioni, però non ne avevo una copia. Quindi ho visto che lo vendevano allo stand di Slaps and Beans, di schiaffi e fagioli, allora ho colto l'occasione per recuperarlo. Anche qui, adesso lo guarderò, lo leggerò poi con dettaglio, per guardarmi bene tutti i contenuti, però vi posso dire che è una guida molto valida, ecco, almeno per quello che è l'ambito in lingua italiana, ci sono poche cose, perché c'è parte lo storico, ormai manuale, di Mareza Bertoli e Ilaria Mariani sul Game Design, però è molto più di ampio raggio, di ampio respiro, quindi poco specifico alla fine su quello che è l'ambito videoludico, qui si va molto più mirati. Poi è chiaro, se avete modo di attingere alla manualistica inglese, lì c'è una differenziazione enorme, però questo è un buon punto di partenza. Comunque magari faccio poi un video a riguardo apposito. E poi le magliette, ho preso come sempre un sacco di magliette, come mia abitudine, Luc è un'ottima occasione per implementare, ampliare quello che è il guardaroba. Quindi cominciamo con questa qui, con Anacleto, quello di Mago Merlino, scritto Barbagianate, molto carino. Poi Mew, in versione antica, quello un po' come si vedeva nel film, c'era questo disegno antico. E poi c'è Megazord, dei Power Ranger, Malenia, di Elden Ring, Ranni, sempre di Elden Ring, con anche Blade, ovviamente, tutto ciò che hai su Elden Ring, Dark Souls, di solito lo compro, così anche magari le uso pure per i prossimi video su Elden Ring, Souls e quant'altro, visto che mi capita periodicamente di farne. Sailor Moon, questa non ho avuto modo di verificare, ma almeno stando a quanto dicevano, dovrebbe anche essere fosforescente. e chiudiamo con una maglietta di Kakegurui. Poi abbiamo gli immancabili bicchieri del Lucca Comics, che stranamente li ho presi vuoti, che come vi ho detto in passato ho quasi smesso del tutto di bere, quindi di solito gli altri anni c'era anche l'occasione per prendere ogni volta una birra, invece in questo caso ho preso solo i bicchieri, che vale comunque la pena collezionare. Poi questo lo regalavano all'Aria Bimbi, quindi ovviamente non ho potuto non prenderlo, e sempre lì ho comprato anche un paio di babaccini, di pupazzini, c'è Mario di Super Mario Galaxy, e Dazzle di Wind Waker. Poi sempre in ambito videoludico abbiamo TAC e la magia Juju per Gamecube. Quando mi capita di trovare giochi che non ho del Gamecube, li compro. Non sono un vero e proprio collezionista, però comunque ne ho avuti tanti, mi piace ogni tanto portare avanti questa cosa, quindi questo qui mi mancava, non costava molto, ho detto ma sì, compriamolo. Così come Valtirian Art, Hero School Story, non so cosa sia, però costava poco, ho detto ma prendiamolo, non c'è neanche dentro la cartuccia, è solo il codice download. Abbiamo Neo di World Ends With You, e abbiamo soprattutto Puffy Kart, che dopo lo storico e glorioso Garfield Kart, che chi mi segue sa che ogni tanto io tiro fuori giochi di questo genere, un po' anche come meme, come trollata, però ci gioco veramente, cioè nel loro insieme mi piace anche esplorare un po' questa cosa, quindi quando ho visto Puffy Kart, ho detto deve essere assolutamente mio, contando anche il fatto che c'è pure dentro la toppa del grande puffo, e anche gli adesivi, quindi insomma parliamo di cose di un certo livello e di un certo spessore. Poi un paio di manga volanti, c'è Windbreaker numero 3 e 4, sto andando avanti a leggerlo, è comunque una di quelle letture da treno, che vanno bene quando c'è quella mezzoretta di treno libera, per cui si lascia leggere volentieri, così come Blue Lock, di cui ho letto tutta la serie principale che è uscita al momento, questo è lo spin-off, non sapevo neanche che fosse uscito, l'ho visto, ho detto scogliamo l'occasione per comprarlo. Libro Game, L'occhio della Sfinge, non ne so niente, l'ho preso perché c'era sto serpentone in copertina, ho detto ma sì, perché no? Giocare un'arte, il gioco come tecnologia trasformativa, questo invece è un saggio, mi interessa leggerlo, sempre in ottica di studio, quindi siamo da parte di uno di quegli acquisti che si fanno anche per ragioni appunto accademiche. Abbiamo poi, questo è interessante ovviamente, le recensioni più oneste, ovvero PSM, il ritorno di questa rivista, che ha fatto molto discutere, molto dibattere per questo fatto delle recensioni più oneste, che quindi allora vuol dire che gli altri sono meno onesti, per lo meno, per non dire disonesti, e ho detto compriamola così, vediamo un po', anche perché mi piacerebbe prossimamente parlare in generale di questo e di altri progetti di riviste, ma ci sarà il tempo, il modo e l'occasione. Finzi, le avventure del grifone finanziere, questo è gratuito, lo prendo tutti gli anni, ogni volta che passo, in realtà mi sa che questo numero ce l'avevo già, però perché no, insomma, perché non riportarsi a casa un'altra copia del finanziere Finzi. e poi abbiamo Panic di Mattia Secci, questo invece consigliatissimo, e non sono ironico, sono serio, bellissimo fumetto, dateci un occhio, questa metropoli, dove seguiamo le imprese di uno zombie con una fidanzata robot, diventano amici di questo papero dei cartoni animati, sono tutti perennemente fatti ubriachi, finiscono in risse in continuazione, mi piace moltissimo, ho anche in realtà un poster di Panic appeso qui in una delle parti di questa stanza segrete, che non vedete, che non vengono solitamente rivelate, ve lo consiglio, ne parlerò più nel dettaglio, anche perché è un po' fermo l'autore, cioè adesso ho preso anche Panic 4, praticamente questo è il volume che raccoglie i primi tre volumi originari, poi c'è il quarto che ho comprato, però adesso dice forse per l'anno prossimo arriva il quinto, quindi riempitelo di soldi, così si muove anche, si velocizza un pochino di più, e porta avanti questa serie, per cui ecco ne parlerò probabilmente in futuro in modo più dettagliato. E poi siamo quasi in chiusura, aggiungiamo un paio di cose, il primo ho comprato un manga innominabile, che infatti non nominerò, però se seguite un po' le ultime uscite, diciamo che alcuni l'hanno definito l'Evangelion dell'Entai, altri hanno riscritto il finale perché è giudicato troppo triste, quindi una delle storie da molti ritenuta più devastanti, psicologicamente distruttive, tristi, depressive, che siano mai state fatte, e che nonostante sia un racconto erotico, in realtà poi vira da tutt'altra parte, diventa appunto una bastonata, per cui trovate in giro dei mezzi meme, mezze storie, dove arriva Josuke di Jojo, arriva Deadpool, che risolvono la situazione, e salvano questa ragazza, che ha una progressiva discesa, un declino progressivo, in questa sorta appunto di abisso, ecco, rimango volutamente un po' generico, tanto chi ha orecchi per intendere, intenda, chi sa ha già capito di cosa si parla, e so che non ci crederà nessuno, ma l'ho effettivamente comprato, per ragioni di studio, didattiche, che so, quando uno dice così, legato un po' a questi ambiti, nessuno ci crede mai, però fidatevi che è così, e dulcis in fundo, per non farci mancare nulla, perché non prendere il fumetto, della nuova versione delle Monster High, ora visto così, devo dire, non mi fanno impazzire, io sono abbastanza appassionato delle Monster High, ho visto tutti i cartoni, ho un paio di gadget, di robaccia legata a loro, ho giocato al loro videogioco, anzi a due dei loro tre videogiochi, in particolare una nuova Mostra Amica a Scuola, però l'ho visto, ho detto, ma sì, perché no? C'è anche, vedete, dice la rivista, con una collana per te, e la tua BFF, che penso sia Best Friend Forever, ma se fosse un'altra cosa, un'altra sigla, ditemelo in un commento, e scopriamo insieme di cosa si tratterà.